Buongiorno, buongiorno e bentornati. Buongiorno, buongiorno e bentornati. Buongiorno, buongiorno e bentornati. Prima ancora, 48 ore fa, l'omicidio del giovane Manuel Spinelli ad Alba Adriatica con l'omicida che è ora piantonato all'ospedale di Teramo. Fatti di sangue che hanno richiamato l'attenzione anche dei quotidiani nazionali con dei richiami in prima pagina, soprattutto per la vicenda dell'oncologa che è stata sgozzata ieri pomeriggio all'ospedale di Sant'Omero, all'esterno dell'ospedale dopo che aveva finito il turno di lavoro. Iniziamo la nostra rassegna dunque con le prime pagine dei quotidiani locali, con le quattro edizioni del centro. Possiamo partire dall'edizione Aquilana, ma vi preannuncio che il titolo d'apertura è il medesimo ed è il seguente. Abruzzo nel sangue, dottoressa sgozzata a Sant'Omero, orrore davanti all'ospedale colpita con una roncola, caccia all'uomo che la perseguitava e poi accoltellato ad Alba, arrestato l'assassino. Ci sono dei richiami in taglio medio, l'Aquila Mattarella premia gli eroi di Rigopiano. In effetti la visita del capo dello Stato ieri all'Aquila passa un po' in secondo piano, proprio per via di questa scia di sangue che ha interessato la nostra regione. Avezzano, ex poliziotto di 86 anni, picchia i banditi. Sul Mona, fuoco, un altro bus tua, soccorsa, donna incinta. Poi un altro fatto che ha suscitato sdegno presso l'opinione pubblica, la locandina del convegno poi che è stato annullato all'Università di Teramo. Rigopiano, il titolo della vergogna, bufera sul convegno annullato, ecco chi ne era a conoscenza. Una balanga di opportunità, recitava in maniera inappropriata, del tutto inappropriata, il titolo della locandina. L'edizione di Chieti-Lanciano-Vasto, dunque il titolo d'apertura è il medesimo, c'è anche il richiamo in basso sul convegno che è stato annullato. Vediamo i richiami in taglio medio. Chieti, auto di lusso, sei condanne per la truffa. Lanciano, sorgenti piene ma metà acqua si disperde. Vasto, strisce, blu, abbonamenti dal primo luglio. Edizione Teramo, nuova giunta, attacchi e polemiche. Ad Alba Adriatica l'hotel fallisce, mandati via i terremotati. L'hotel Majestic di Alba Adriatica. Poi Giulianova, ospedale, niente accorpamento dei reparti. E siamo all'edizione di Pescara, la cronaca prostituzione, 150 case a luci rosse. Ospedale, emodialisi 2, temperature fino a 40 gradi. A Montesilvano, aggressione di cinghiali in via Vestina. E siamo alla prima pagina del messaggero Abruzzo. Il titolo d'apertura, oncologa sgozzata davanti all'ospedale. Ester Pasqualoni, 53 anni, era dirigente medico del Day Hospital di Sant'Omero, accoltellata nel parcheggio. Separata due figli, vittima forse dello stalker che aveva già denunciato, caccia all'uomo della Peugeot bianca. Sotto la testata, spettacoli, Cristina D'Avena tra le star dell'estate e dei saldi. All'Outlet Village a Teramo, indignazione per il titolo shock sulla valanga. Salta il convegno. La visita, finanza, mattarella, l'Aquila ringrazia gli eroi dei soccorsi. Il capo dello Stato alla cerimonia per il 243esimo delle fiamme gialle. Ricordato l'impegno per terremoti, rigopiano e l'emergenza neve. Di spalle, l'inventore dei robot a due passi dal bombarolo. La fotonotizia al centro, con il delitto di due giorni fa, di due sere fa, ad Albadriatica, raffica di pugnalate al rivale in amore, muore ragazzo di 22 anni. L'altro in cella, la movida, si macchia di sangue ad Albadriatica. In taglio medio troviamo un altro articolo inerente, l'omicidio di Sant'Omero, con le parole dell'amica del cuore di Ester Pasqualoni. La perseguitava, che sia maledetto. La Longo, che è appunto l'amica di Ester Pasqualoni, la sua querela venne archiviata. Il compagno è morto d'infarto per proteggerla. E poi in basso, Pescara, una torre sotto, Ponte Flaiano. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, caccia allo stalker della dottoressa Carabinieri sulle tracce del presunto assassino, la sua auto trovata a Martinsicuro, sporca di sangue. Sotto la testata, una donna contesa dietro la rissa e le coltellate mortali al 22enne Rom, l'omicidio del Belmezzo della Movida di Albadriati, che ha fermato un albanese. Nel cinema, lo storico Odeon di Roseto rivive all'universo di Silvi Marina. E poi ancora la fotonotizia, sempre legata all'omicidio di Sant'Omero, ucciso l'angelo di oncologia Ester Pasqualoni, 53 anni, accoltellata nel parcheggio dell'ospedale. La donna, peraltro, viveva a Roseto degli Abruzzi. In basso, per la politica, fuori dal palazzo, Teramani rassegnati alla crisi. Per lo sport, l'intervista al neomister del Teramo, Antonino, ha sta pazienza e risparmio per la vera rivoluzione del Teramo. Lasciamo le prime pagine locali, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziando dal Corriere della Sera, questo è il titolo d'apertura, offerta di intesa sulle venete, svolta sulle banche in crisi, proposta condizionata per il salvataggio. La cifra è simbolica, un euro, esclusi i crediti deteriorati, i nodi degli esuberi e del decreto. E poi, ecco qui, vediamo di spalla, delitto a Teramo, la dottoressa accoltellata. Un uomo la perseguitava. Sotto la testata, la politica in Francia. Macron, perché la mia elezione fa rinascere l'Europa? Non credo nella demagogia, nel lusingare un popolo per dirgli quello che si aspetta, parlargli delle sue paure. E poi per lo sport, dopo lo strappo Donnarumma e il Milan, c'è una strada per ricucire. E poi ancora la fotonotizia al centro, il discorso della regina senza corona a Westminster, la scelta della sobrietà, arrivo senza carrozza. Vediamo la prima pagina di Repubblica. Forza Italia contro l'antimafia, rivedere il codice. Berlusconi sonda il PD, norme troppo dure, idem, non si cambia. E poi ancora il caso a Torino, il Movimento 5 Stelle attacca il questore da Piazza San Carlo agli scontri della Movida, il mese nero del sindaco Appendino. Intesa offre un euro per comprare le banche venete, lo Stato salda, NPL è passivi, vola la borsa, si attende l'Unione Europea. Poi la fotonotizia, la marcia del Gandhi turco spaventa Erdogan da Ankara fino al carcere di Istanbul, basta con gli arresti. Poi in basso i miei 43 anni di lotta per la verità sulla strage. Poi per la maturità, ieri è stato il giorno della prima prova, quella di italiano con la sorpresa del poeta Caproni, vi dico Chiara Caproni, una poesia nuda e cruda. Avanti ancora con la prima pagina della stampa, cambia l'apertura in questo caso, vaccini, cambia il decreto, multe, patria, potestà e verifiche. Il testo sarà ammorbidito. Allo studio la riduzione della sanzione per gli inadempimenti. La Corte Europea dice che non è necessaria la prova scientifica per stabilire il nesso con le patologie. E poi ancora al centro, Movida Appendino, scarica il questore dietro front sui controlli anti-alcol. La sindaca non deve più succedere. E poi in basso, un corsivo Caproni, Caprotti e Caprette, sempre in riferimento alla prima prova di maturità di ieri. L'apertura del fatto quotidiano. Boschi e compagni tremano, liquidate le verete e ghizzoni in arrivo. Intesa si prende i due istituti. E poi, sempre sotto la testata, scandalo PD. Via Marroni accusa Lotti, Consip, fuga di notizie ed allarma ai servizi. Pure a Palazzo Chigi, in basso, in taglio medio, ecco lo Ius Sola del Vaticano. Non ce l'ha, ma lo vuole per noi. Se nasci da genitori residenti, a 18 anni, ottieni il permesso di soggiorno. E poi, inchiesta a Milano, Infront, Diritti TV, Silvio Ghedini e Gagliani. E quel vertice a Palazzo. E poi, stampa e potere, Repubblica. L'ingegnere vuole lasciare a Mauro, che risponde ni. La prima pagina del giornale. Obiettivo ballottaggi. Berlusconi lancia la sfida. Il Cavaliere protagonista, con me Forza Italia, al 30%. Il Movimento 5 Stelle è pericoloso. Mai pensato di governare. E poi, a sorpresa, tema letterario sul poeta Caproni, lo sconosciuto, che fa impazzire i maturandi. E poi ancora, l'editoriale di Alessandro Gnocchi. Così i grillini fanno esplodere la rivoluzione dell'aperitivo. Centri sociali violenti a Torino. E poi ancora, allarme in migrazione. Un europeo su due, basta islamici. E lo just soli ci farà saltare i conti. In basso, se lo stalker paga, non va in galera. Ieri, nel Terramano, oncologa sgozzata dal suo persecutore all'ospedale. Avanti con Libero. Cambiano partito per tenere la poltrona. 500 onorevoli. Volta Gabbana. Battuto ogni record di mutazioni di casacca con la campagna acquiste di Berlusconi. in dieci verso Forza Italia. Un senatore addirittura transitato per nove gruppi. Impossibile fare le riforme con un Parlamento così. A un anno dalla loro elezione, Raggi e Appendino sono passate da fenomeni a zavorre. Ecco i loro dieci errori. E poi, il show del cavaliere a porta a porta, se vince Grillo e Spasrio. Silvio le spara grosse sull'Islam. E poi, in basso, accogliamo stranieri e sportiamo italiani. Scappati oltre 500 mila con nazionali all'estero e dal sud migrano al nord. La verità, l'apertura. Sparito mezzo milione di italiani. Il piano per prenderci altri immigrati. Il progetto integrazione di Minniti è una bomba. Assicura lavoro, casa, ricongiungimenti familiari, persino corsi di lingue. Richiamerà ancora più straniere. Indurrà altri con nazionali alla fuga. La fotonotizia, le storie dei clienti rovinati da Zonin e da Veneto Banca. E poi, in taglio medio, zitti, zitti, è cambiata la maggioranza. Il governo perde il sostegno di MDP e raccatta voti da Forza Italia. Ma tutti fanno finta di nulla. avanti ancora, visto che siamo nel momento, nel periodo dell'esame di maturità, il tempo, dopo un anno di Raggi, emette la sua sentenza. Ed è bocciata Virginia Raggi, il sindaco di Roma. L'editoriale, facciamoci del male, un tempo tutto per lei. Tutto tratto da una storia vera, nell'articolo di Gianmarco Chiocci. Poi Casomarra, Raggi, nuove carte, le intercettazioni, la Lombardia. E' proprio una, puntini, puntini. Esame di immaturità. Virginia si dà 7,5 in pagella, ma il voto vero, dateglielo voi, dopo aver letto queste 32 pagine. Il messaggero, banche, si tratta sul salvataggio. Offerta di intesa per rilevare Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Alla cifra di 1 euro volano in borsa i titoli di credito. Parte la commissione di inchiesta sul sistema bancario. E poi europeo under 21, azzurri, crollo con i ciechi 3 a 1. Ora la semifinale è a rischio. La fotonotizia al centro, la prima prova per 500.000 studenti. Maturità, la sorpresa è caproni. Poi terremoto, robo e il boom. Rischi in agguato nell'articolo, nell'editoriale di Mario Comana. Operazione verità, non regolamenti di conti politici. In taglio medio, Raggi chiede pazienza ai romani. Colomban a settembre lascio. La sindaca ho agito in buona fede. Grillo è con me. E poi parla l'assessore. In basso, diritto Vanani, il manoscritto trovato nella cella del suicidio. Spunte il testamento di Prato. Non ho ucciso. E poi, orrore a Terramo. Aggressione con un coltello. Dottoressa massacrata davanti all'ospedale. Caccia allo stalker che era stato denunciato. Andiamo a vedere le ultime testate. Lente sulle banche. Siamo sull'avvenire. Arriva il via libera alla commissione d'inchiesta intesa pronta a rilevare gli istituti veneti in crisi. E poi ancora il mattino la campagna traina il Pil del Sud. L'Istat con un più 2% è la migliore in Italia. Ma 380.000 in fuga dal mezzogiorno al nord in nove anni. E poi in basso, oncologa assassinata dallo stalker Terramo caccia un uomo che la donna aveva già denunciato. due volte. La gazzetta del mezzogiorno. Gli infedeli record dell'IVA. Raggi a rischio processo. Io in buona fede. Grillo mi sostiene. Renzi all'attacco. Urlavano onestà. Ora provino l'innocenza. Torniamo alle notizie dalla nostra regione. Lo facciamo anche con l'aiuto dei servizi del TG6. Intanto siamo a pagina 2 del centro. Abruzzo nel sangue. Oncologa uccisa con la roncola. Santomero orrore davanti all'ospedale. Colpita alla gola caccia al suo persecutore. Qui la prima foto con la vittima. E poi gli altri scatti che ritraggono la scena del delitto. con il corpo della donna coperto da questo velo verde. In basso aveva denunciato l'uomo che la molestava. La dottoressa viveva in un villino a Roseto. Due anni fa aveva perso il compagno per un infarto. Vediamo anche il messaggero Abruzzo nella pagina di Teramo. La pagina in cui si parla di questo omicidio. Dottoressa sgozzata da uno stalker. La vittima è Esther Pasqualoni, 53 anni, di Roseto. Era appena uscita dall'ospedale Val Vibrata dove lavorava. I sospetti sono concentrati su un pensionato di 60 anni che da tempo la perseguitava con una serie di appostamenti. Il collega Pier Giorgio Casaccia che la soccorsa per primo purtroppo non c'era più nulla da fare. Era responsabile del dei ospiti all'oncologico del presidio il dolore del manager Fagnano. E poi come detto la testimonianza dell'amica del cuore amica avvocato Caterina Longo la sua denuncia caduta nel vuoto. Il cordoglio con le parole dell'assessore Sclocco la regione sta rivedendo la legislazione. Andiamo ora a vedere la città, il quotidiano della provincia di Teramo come tratta appunto questa notizia. Caccia allo stalker. Hanno ammazzato l'angelo di oncologia. Esther Pasqualoni, dottoressa di Roseto, uccisa a coltellata nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero. Carabinieri sulle tracce di un 65enne di Martinsicuro che da anni avrebbe perseguitata la sua auto trovata sporca di sangue. Poi anche in questo caso c'è la testimonianza proprio del dottor Pier Giorgio Casaccia che come leggiamo l'ha trovata a terra e ha provato a soccorrerla. sconvolto, dice, è morta tra le mie braccia. Allora, vediamo il servizio del Tg6. Esther Pasqualoni era un'oncologa dell'ospedale di Sant'Omero nel Teramano. È stata sgozzata oggi pomeriggio nel parcheggio antistante al nosocomio al termine del suo turno di lavoro. La dottoressa Pasqualoni aveva già denunciato diversi episodi di stalking. Si cerca l'assassino, hanno già perquisito una casa nei pressi dell'ospedale. Era un medico stimato, lo volevano bene tutti. Lavorava con pazienti delicatissimi perché lavorava nell'oncologia, come è noto. Noi ci sentiamo, a quello che pare sembra che sia escluso per così dire un movente legato comunque alla sanità o all'ospedale. Poi c'è la Procura che sta facendo i rilievi e quindi le indagini e quindi vi potranno dire loro. Quello che dispiace ovviamente è che una vita giovane che lascia due figli, abbia avuto, mentre andava a lavorare, una fine così drammatica. Quindi è un fatto straziante. Di questi tempi si sentono tante cose, però insomma è... a questo livello, insomma è difficile, non so, anche sul padronama nazionale è difficile, insomma, in questo contesto. una persona che viveva e lavorava per aiutare e per salvare la vita degli altri è stata così barbaramente trucidata in un parcheggio, insomma. Un fatto che ci riempie di tristezza. Trova conferma il fatto che la dottoressa subisse una sorta di stalker da molto tempo. Noi questo non lo sappiamo, sembra che c'è un'ipotesi anche di questo genere, però noi l'azienda sanitaria non lo sa, per noi era una dipendente che svolgeva bene il suo lavoro. Si dice una cosa di questo genere, ecco. Non c'era più niente da fare? No, 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 sono intervenuti i medici del pronto soccorso che hanno solo constatato che ormai non respirava neanche più, quindi è stato, insomma, è stato molto... siamo sempre in televisione, quindi cerchiamo di essere stato anche in qualche maniera cruento. Non era più... Adesso, diciamo che quello che appare c'è stato l'utilizzo di un cortello, ovviamente. E ora ci spostiamo con l'attenzione sull'altro grave fatto di sangue avvenuto in Abruzzo circa 48 ore fa dal Badriatica. Ecco, qui siamo sulla città, una donna contesa dietro la coltellata mortale per la morte del 22enne Rom, Manuel Spinelli, arrestato il 27enne albanese Fitim Koldasci. I due rivali si sono incrociati per caso, prima le botte, poi le coltellate in mezzo alla strada durante la movida serale. Poi, in stato di fermo, l'arma del delitto sarebbe un coltello a Serramanico, non ancora trovato l'assassino in ospedale. Vediamo ora la pagina del messaggero sul delitto di Alba Adriatica, pugnalate per la ragazza. Preso l'assassino, Manuel Spinelli, di 22 anni, è stato trucidato per gelosia da Fitim Koldasci, albanese che lo ha bloccato in auto. Il coltello non è ancora stato rimenuto dagli inquirenti. Il presunto omicidio, dice, non ricordo di averlo colpito, al cuore. La tragedia si è consumata nello stesso luogo dove otto anni fa fu ucciso Emanuele Fadani. Poi ancora, chi era la vittima? Figlio unico massacrato sotto gli occhi del padre. Un cugino te ne sei andato. Adesso percorriamo l'altra metà della strada assieme agli angeli. E poi, cinque morti in pochi anni, la comunità chiede risposte. Una serie di delitti hanno purtroppo caratterizzato la comunità albense. e adesso siamo sulla pagina del centro che tratta questo omicidio a pagina 3, pugnalato per gelosia. Ha arrestato l'assassino ad Alba, il 22enne Spinelli, trafitto dall'albanese Koldasci. Ma la vittima era stata accusata di un altro delitto. A 13 anni, Manuel coinvolto nella morte dello studente cameriere De Meo. La madre è durissima, una giustizia divina. E allora, vediamo anche in questo caso il servizio del TG6. E' piantonato in ospedale a Teramo, Farim Koldasci, 27 anni di origini albanesi, accusato dell'omicidio volontario di Manuel Spinelli, 22 anni appartenente ad una storica famiglia Rom di Alba, Adriatica. Il ragazzo è stato raggiunto all'occhio e al cuore da due fendenti sferrati dal 27enne ieri sera attorno alle 23.30 al culmine di una rissa avvenuta nei pressi della taverna Wolf di Alba all'incrocio tra Viale Mazzini e lungomare Matteotti. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale con i filmati già al vaglio degli investigatori che saranno inseriti negli atti dell'inchiesta condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Teramo e dalla compagnia di Alba Adriatica e coordinata dal pubblico ministero della procura di Teramo, Davide Rosati. Alla base della scazzottata probabilmente vecchie ruggini per questioni di cuore. Una donna contesa, forse, già fidanzata di Spinelli poi diventata ragazza di Koldalshi. Secondo una prima ricostruzione l'incontro tra i tre Rom che stavano cenando nel locale e l'albanese sarebbe avvenuto in maniera del tutto casuale. Koldalshi stava percorrendo in auto il tratto di strada nei pressi del Wolf con a bordo la fidanzata. Forse qualche parola di troppo e i due vengono alle mani. Ne scaturisce una rissa che coinvolge anche gli altri amici di Spinelli. Koldalshi a quel punto estrae il coltello e sferra i due colpi fatali. Infine fugge prima di essere rintracciato dai carabinieri e condotto al pronto soccorso di Teramo per le lesioni riportate. Per Spinelli, invece, non c'è stato nulla da fare nonostante la corsa verso l'ospedale di Giulianova. Torniamo sul centro a pagina 4 Fiamme gialle in festa medaglie per Rigopiano Mattarella premia gli eroi il capo dello Stato stringe la mano ai soccorritori che raggiunsero a piedi il resort quattro ministri e il presidente del Senato Grasso alla cerimonia della finanza. Poi le parole del ministro Paduan che esalta la lotta alla illegalità il ministro dell'economia conti in ordine per dare impulso alla crescita. Sicurezza e territorio città vicina alle forze armate il ministro Pinotti parla del nuovo battaglione alpini per le emergenze e poi ancora professione finanziere nei prossimi tre anni nuovi corsi per 1900 allievi il generale Toschi assicura che la scuola dell'Aquila sarà ancora più strategica gli allievi marescialli prendono 900 euro al mese 1600 dopo la prima nomine poi in basso dalla balilla Leguzzi parata di divise antiche e di mezzi d'epoca avanti ancora a pagina 7 il titolo della vergogna girava da una settimana e nessuno lo ha cambiato il quotidiano del centro è risalito all'origine del meeting fino all'annullamento tra email e inviti non ricevuti e lo scarica barile degli interessati e poi le parole del comitato vittime di Rigopiano quelle parole fanno male come le intercettazioni post-sisma e poi altre reazioni il rettore dell'Università di Teramo D'Amico è un obbrobio infelice e riguardoso chiedo scusa a vittime parenti di Rigopiano il governatore D'Alfonso stigmatizza il titolo che mantiene in sanguinante una ferita dolorosissima e poi il parlamentare azzurro Fabrizio Di Stefano credo sia qualcosa di pessimo gusto e le espressioni di una macabra umanità la consigliera 5 Stelle Sara Marcozzi l'unica opportunità che si è persa è quella di tacere quel titolo fa rabbrividire e poi l'assessore regionale Dino Pepe quando ho visto la locandina ho chiesto che fosse cambiata non so perché non sia stato fatto andiamo ora nelle pagine di Pescara della cronaca di Pescara prostituzione la mappa del sesso 150 case a luci rosse aumenta la presenza di squillo transessuali in appartamenti le denunce dei residenti infastiditi dai tanti clienti ma le forze dell'ordine possono fare solo controlli l'altro mercato centri massaggi sexy aperti di notte i clienti qui bastano anche 30 euro e poi ancora emodialisi 2 scoppia di caldo le stanze come un forno pazienti costretti a rimanere immobili sui lettini per 4 ore con finestre sigillate e temperature fino a 40 gradi l'intervento del consigliere regionale Pettinieri dei 5 Stelle spesa minima per i climatizzatori e poi in basso in carichi Forza Italia propone il sorteggio delibera di Antonelli in consiglio comunale i professionisti devono ruotare allora vediamo il servizio del TG6 a tal proposito dopodiché spazio alle previsioni del tempo alla pubblicità e noi ci ritroveremo più tardi con la seconda parte di mattino 6 Marcello Antonelli chiedete al comune di Pescara alla giunta Alessandrini regole certe per quanto riguarda i bandi di gara gli appalti e tutto quello che concerne appunto l'attività in questo senso dell'amministrazione comunale perché? Perché riteniamo che i principi di equità rotazione degli incarichi imparzialità trasparenza rispetto delle regole siano imprescindibili abbiamo ritenuto che in questi anni ci sono state più volte proroghe tecniche per contratti ampiamente scaduti che non erano proroghe tecniche in realtà ma soltanto il frutto delle latitanze delle inerzie magari delle strutture dirigenziali interessate e su questo l'ANAC l'autorità nazionale anticorruzione ha avuto molto a ridire così come abbiamo assistito per esempio al conferimento di incarichi sempre agli stessi soggetti così come abbiamo potuto verificare che quasi sempre sono le stesse ditte a lavorare per le somme urgenze o per gli affidamenti diretti insomma uno scenario assolutamente non piacevole non positivo noi riteniamo che si debbano ridistribuire una serie di regole e di indirizzi per rendere più trasparenti le attività del Comune di Pescara per quanto riguarda il conferimento di incarichi professionali per quanto riguarda l'affidamento di servizi forniture e prestazioni in genere un lavoro molto articolato che sottoponiamo da oggi al Consiglio Comunale credo già tra qualche settimana il Consiglio Comunale potrà esprimersi ci auguriamo che ci sia come dire la maturità per comprendere che ormai su questi temi non si può scherzare in un momento di grandi crisi economiche noi abbiamo l'obbligo di garantire imparzialità e trasparenza e un'altra delle nostre proposte che abbiamo calato è quella di invitare solo le ditte che hanno la sede nella regione Abruzzo alle procedure negoziate dove ci sono le procedure aperte ovviamente possono partecipare tutti ma per importi inferiori riteniamo che i soldi dei pescaresi perché noi gestiamo i soldi delle tasse versate dei pescaresi debbano ricadere in questo territorio in questa maniera crediamo di fare come dire un ottimo servizio a favore del sistema delle imprese e anche quindi della salvaguardia dei livelli occupazionali di nuovo buongiorno la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo dal centro sempre nel pescaresi assalto alle case vuote 130 occupazioni abusive l'ultimo caso sfondati porta e finestra di un alloggio di via passo della portella l'ater per liberare gli appartamenti e riassegnarli servono anni e molte risorse e poi ancora l'ansia da maturità si vince con rosario gelato e peperoncino ecco come i ragazzi si sono preparati per l'esame di stato i sogni per il futuro infermieri cantanti e volontari alla LAD proprio in questi minuti sta iniziando la seconda prova di maturità l'inizio era fissato per le ore 8 e 30 con la prova di indirizzo e poi ancora siamo alla pagina di sempre a Pescara con gli eventi stasera torna il giovedì unico tavolata da 500 posti e musica anni 70 a Pescara vecchia pagina di Montesilvano con l'emergenza cinghiali assalto in via Vestina aggrediti dai cinghiali davanti alle nostre case una donna che stava tornando nella sua abitazione con la nipotina di 10 mesi racconta l'incontro ravvicinato la mia cagnetta ferita gravemente dai selvatici e poi ancora sgombero dei senegalesi da via Riosto il caso in procura depositato un esposto di Daniele Liccheri di Sinistra Italiana sull'operazione condotta dalla polizia su ordine del sindaco poi ancora siamo con sempre nel pescarese siamo a Caramanico musica avventura e comicità per l'estate a Caramanico Terme Antonella Ruggero ospite al Festival del Benessere Appennino Bike Tour e tanti appuntamenti gastronomici pagina Aquilana pestaggio per strada picchiato a sangue dal datore di lavoro a Pizzoli in bianchino non firma la busta paga e viene colpito a calci e pugni e costretto a farsi medicare al pronto soccorso in basso la causa civile vittime tranquillizzate dalla grandi rischi pagina di Chieti raggiro internazionale truffa delle auto di lusso sei condanne veicoli di grande cilindrata acquistati in Germania ma la gang poi spariva nei guai tre ortonesi e un lancianese e poi sempre a Chieti reato estinto con i servizi sociali botte a universitari che cantavano l'inno del Pescara giovane riabilitato amianto a scuola la protesta va in comune insegnanti e genitori chiedono la bonifica dell'edificio il sindaco di Primio promette i lavori poi Teramo due città sotto shock alba la paura corre sotto traccia in apparenza l'omicidio non sembra scuotere i residenti il sindaco Piccioni il delitto è avvenuto qui per caso ora andiamo sul messaggero Abruzzo e ripartiamo da quanto è avvenuto ieri all'Aquila Mattarella omaggio ai soccorritori di tutte le tragedie il capo dello Stato all'Aquila per il 243esimo della finanza commemorate le vittime di Rigopiano sisma e maltempo nessuna dichiarazione ufficiale ma parole di stima per Fiamme Gialle e gli altri angeli delle macerie il servizio del TG6 Stamattina all'Aquila cerimonia militare celebrativa del 243esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza l'evento alla scuola ispettori e sovrintendenti di Coppito si è svolta la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dei Ministri dell'Economia e della Difesa Piercarlo Padoan e Roberta Pinotti del Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Corpo d'Armata Giorgio Toschi del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Rosibindi e di numerose altre autorità civili militari e religiose è la terza visita del Capo dello Stato al Capoluogo Abruzzese dopo quella istituzionale per l'inaugurazione dell'anno accademico e quella privata alla Camera Ardente delle Vittime dell'incidente dell'Ericottero del 118 nel gennaio scorso il Presidente della Repubblica ha decorato la bandiera di guerra della Finanza con una medaglia d'oro al Valore Civile 11 riconoscimenti individuali consegnati ai militari tra cui 4 medaglie d'oro al Valore Civile per gli uomini che sono intervenuti a Rigopiano altre medaglie d'oro sono andate dei finanzieri che hanno salvato gli abitanti di Campo Tosto e che hanno operato da matrice proprio il comandante generale della Guardia di Finanza il generale Toschi nel suo intervento ha voluto sottolineare il forte valore simbolico della scelta di celebrare questa cerimonia proprio nel capoluogo abruzzese qui ha detto il generale Toschi si formano le colonne portanti della nostra struttura organizzativa ma ci consente anche di esprimere ancora una volta la commossa solidarietà del corpo alle popolazioni del centro Italia anche in occasione degli eventi più recenti a concluso da questo tempio della solidarietà sono partiti i soccorritori a chiusura della cerimonia poco prima che il presidente Mattarella lasciasse il palco delle autorità il nuovo elicottero delle fiamme gialle ha fatto un sorvolo del luogo dell'evento e durante il passaggio aereo un finanziere ha sventolato per alcuni metri la bandiera tricolore in onore del capo dello Stato sul messaggero la pagina di Pescara Torre e Parco sotto Ponte Fraiano già presentato il progetto che i fratelli Liberato Scioli sperano di realizzare sull'area del loro General Marmi il comune punta a demolire la draga sul fiume trasferendo la cubatura previsto anche un palazzo di Emilia e Mammarella le grandi opere cambiano la skyline della città anche in tempo di crisi ma le risorse restano un problema poi di legno o di barche di ferro o strallati i passaggi tra le due sponde del Pescara quello inaugurato la settimana scorsa e l'ottavo attraversamento le belle narrazioni di D'Annunzio Caproni spiazza i ragazzi che scelgono la tecnologia preferita la traccia del saggio breve su lavoro e sviluppo socio-economico i versicoli quasi ecologici del poeta considerati comunque un tema facile oggi tutti in classe per la seconda prova scritta diversa in base agli indirizzi latino al classico concerti sport e cucina all'outlet Cristina D'Avena è zero assoluto tra i big per i saldi al Città Sant'Angelo Village alla Cittadella dello Shopping anche Wannaby Americano e a Ferragosto i Made in Sud e poi ancora Soler Servillo Rei in segno e per rotta statica promette spettacolo al Marina l'apertura sabato al Porto Turistico con una serata dedicata all'Abruzzo cinema e street food nel programma e poi ancora una notte romantica dei nostri borghi più belli bacio di mezzanotte e lancio di migliaia di palloncini in cielo i momenti più attesi dell'iniziativa in tutta la regione le pagine aquilane del messaggero sanità e scontro sul project per il nuovo ospedale cittadino il centro-sinistra e il management ASD promettono l'integrazione con Teramo e Biondi nei giorni scorsi ha polemizzato torderà Cacci le carte del progetto il piano da 90 milioni è stato benedetto da Paolucci e Pietrucci ADB in ascolto studio la materia e poi ancora in basso sul fronte di Benedetto la coalizione in vantaggio ora teme l'astenzionismo la coalizione quella di centro-sinistra sul fronte centro-destra bollette del progetto case duello col sindaco Cialente e poi andiamo in Marsica per l'altro ballottaggio noi azzurri con Di Pangrazio ecco perché l'esponente di Forza Italia Francesco Lilino Laurenzi ex provinciale ed ex amministratore critica De Angelis le spese per lo staff equivalenti a quelle di Floris ora il sindaco tenga a bada il partito democratico Iacone aggiunge limitiamo le influenze di Celano e Sulmona sulla città pagina di Chieti fa il volontario Caritas ed evita il processo per i ragazzi pestati Cirotti ha distribuito per mesi viveri e vestiti e risarcito le vittime e così ha estinto il reato due imputati a giudizio uno ha patteggiato calci pugni e un paletto per l'aggressione l'agguato colpì un gruppo di universitari avevano cantato l'inno del Pescara e poi di Spalla Verde Pubblico Comunale i disabili curano i giardini iniziativa di Rotary e Recupera iniziati intanto i lavori al Campo Santo e poi ancora il caso strisce blu sconti solo ai vastesi Marina gli abbonamenti stagionali a 40 euro riservati ai residenti il provvedimento penalizza i turisti e chi arriva dai comuni vicini scatta l'esperimento l'assessore Barisano dice vogliamo andare in contro alle esigenze dei cittadini il ticket giornaliero invece costerà 5 euro parcheggi a pagamento dal 1 luglio al 31 agosto ecco tutti i tutti i prezzi a Lanciano Ecolan in centro i distributori automatici per l'umido e poi sempre a Lanciano Sasi nel vivo il piano da 25 milioni di euro il presidente basterebbe così colmiamo un vuoto e risolviamo i problemi le pagine terramane più o meno le abbiamo viste in apertura della nostra rassegna stampa in basso leggemo per la politica le parole del sindaco Brucchi Antonini equilibri e molla campana lasciamo dunque il messaggero Abruzzo e andiamo a sfogliare le pagine della città abbiamo visto già le pagine dei due omicidi siamo ora alla crisi al comune di Teramo terramani rassegnati dalla crisi del palazzo distacco e commiserazione per quanto sta avvenendo in comune i cittadini poco interessati dal cambio di giunta i terramani sembrano rifiutare in blocco le beghe interne all'amministrazione rilevata alla grande distanza dei politici rispetto ai problemi reali della quotidianità cittadina e poi in basso sul fronte centrosinistra per le opposizioni è molto meglio il commissario rispolverata la mozione di sfiducia e chiamati in causa i dissidenti e poi ancora c'è chi ha votato Brucchi e sostiene il suo sforzo di tenere in piedi l'amministrazione a tutti i costi ma senza dimenticare i tanti problemi che il comune non riesce ad affrontare poi sul fronte centrodestra occhi puntati sulle decisioni dei tre dissidenti oggi la conferenza stampa per capire se il sindaco ha ritrovato la maggioranza e poi le parole del sindaco Brucchi anche il suo post su facebook un sindaco provato ripete il suo mantra avevo carta bianca allora il servizio della nostra redazione eccola la quarta giunta in tre anni varata dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi per chi si aspettava novità e cambio di passo la delusione legittima otto assessori invece di nove tutti riconfermati ad esclusione di Silvio Antonini che di fatto non aveva mai iniziato la carica di vice sindaco passa da Mirella Marchese a Dodo di Sabatino che assurge così in pectore a futuro candidato sindaco del centrodestra dopo mesi di immobilismo politico spesi a discutere su come rinnovare e ridurre a sé un esecutivo che non veniva più apprezzato e non aveva più i numeri in consiglio comunale oggi si torna al punto di partenza con gli stessi assessori alle stesse deleghe o quasi Mirella Marchese Caterina Provisiero Franco Fracassa Roberto Canzio Eva Guardiani Mario Cozzi Valeria Misticoni e Dodo di Sabatino vice del sindaco Brucchi insomma squadra che vince non si cambia Nuovo vice sindaco di Teramo allora come si apre questa giornata? Si apre come si erano chiuse quelle di dieci giorni fa al lavoro nel mio ufficio nella problematica quotidiana e nell'attivismo quotidiano che ci deve contraddistinguere in un momento in cui credo sia opportuno più fare che parlare Lei ha la delega alla ricostruzione ripartirà questa ricostruzione? Io sulla ricostruzione ho mosso già alcune verplessità ovviamente c'è da stimolare gli uffici preposti in particolare l'USR e poi il governo centrale Lei teme una sfiducia? Ma guardi il malpancismo ormai è un mare diffuso le questioni sono variegate e questo è un mandato molto sofferto anche molto complesso per come sia come è stato gestato per quelle che erano probabilmente le aspettative anche le legittime ritrosie o rivendiche di chi che sia è verosimile che possano esserci ancora momenti di fibrillazione Fiducia o sfiducia che sia lei probabilmente sarà il prossimo candidato sindaco del centro-destra? Guardi questa è una indiscrezione che lascio fare a voi giornalisti la recepisco per quella che è ho davanti a me tanto lavoro da fare il resto non conta il resto conterà è soltanto il momento in cui qualcuno avrà intenzione di eventualmente di designarmi io ad oggi faccio quello che posso e lo faccio al meglio provo a farlo al meglio Cosa faranno ora i tre dissidenti che hanno tenuto in scacco il sindaco Brucchi per due mesi con la richiesta di una giunta a sei che comprendesse anche figure tecniche lo sapremo presto per il capogruppo del PD in consiglio comunale Maurizio Verna questa soluzione di nuova vecchia giunta è davvero una barzelletta mentre per Fabio Berardini consigliere del Movimento 5 Stelle semplicemente una vergogna Abbiamo detto che quella di oggi è la seconda giornata della prova di maturità con la prova di indirizzo arrivano le prime notizie bene il valore della filosofia sarebbe questo il titolo della versione di Seneca proposta dal Miur ai maturanti queste dunque le prime conferme che arrivano circa la seconda prova poi ulteriori dettagli anche nel corso delle edizioni del TG6 vi proponiamo ora un ultimo servizio realizzato dalla nostra redazione ieri abbiamo già visto sul centro ci torniamo sulla città su questo fatto la locandina shock con il commegno annullato all'Università di Teramo sdegno e rabbia per il titolo dell'evento che si sarebbe dovuto tenere oggi sulle calamità naturali ecco la locandina con questo titolo davvero inappropriato dalla grande calamità una valanga di opportunità con le parole del governatore D'Alfonso non sono stato invitato e non è stato mai chiesto il patrocinio della regione e appunto la locandina talmente è stata inappropriata che il rettore D'Amico ha disposto l'annullamento dell'evento allora vediamo il servizio sicuramente la locandina verrà cambiata in fretta e furia come quando i bambini fanno le marachelle e cercano di nascondere la malefatta per evitare la punizione il titolo del convegno in programma domani mattina all'Università di Teramo è quantomeno fuori luogo se vogliamo essere buoni per non dire che è offensivo e stupido chi ha vissuto quei giorni da cronista da soccorritore da uomo delle istituzioni oppure da semplice cittadino abruzzese d'italiano incollato ai TG per avere notizie guardando questa locandina e ricordando l'ansia la gioia per i bimbi estratti vivi e la disperazione delle ore successive alla valanga che si è portata via 29 persone sotto le macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola dovrebbe indignarsi a maggior ragione se si pensa che questo titolo corredato da esemplificativa foto di sfondo è stato partorito da menti che magari ci hanno anche ragionato su studiato elaborato costruito e poi impresso su carta magari con l'imprimatur dei partner dell'iniziativa nell'ordine Carabinieri Forestali Università di Teramo Regione Abruzzo Fondazione Gran Sasso e Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga IZS Caporale e Accademia Italiana di Scienze Forestali al tempo di internet e dei social le informazioni corrono veloci la locandina è diventata virale sulla rete e sicuramente già rimbalzata nel telefonino dei familiari delle vittime che ogni mese da quel maledetto 18 gennaio si ritrovano nei luoghi della tragedia per stare insieme per ricordare per darsi forza e per difendere il ricordo dei propri cari a cui sono disperatamente aggrappati un titolo sbagliato nella sua costruzione ma anche nel suo significato quale opportunità ci può mai essere da un evento che ha lasciato dietro di sé morte e distruzione? Ricorderete tutti la vignetta di Charlie Hebdo sulla valanga di Rigopiano tutti a stracciarsi le vesti giustamente e ad inveire contro l'insensibilità dei cugini d'oltralpe peraltro provati dagli attacchi terroristici noi però siamo riusciti a fare anche di peggio perché abbiamo l'aggravante della ferita ancora aperta delle inchieste ancora in corso delle responsabilità ancora da accertare a questo punto come il bambino di qui sopra sarebbe bene che chi ha pensato questa locandina venga fuori con il dito alzato chieda scusa e riceva una sana sculacciata da bravi genitori quali tutti dovremmo essere proseguiamo sulla città una folla ai funerali del giovane alpinista ieri a piazza Garibaldi l'addio a Filippo Di Francesco il 23enne Terramano precipitato sulle Dolomiti oggi la salma del ragazzo verrà trasferita al cimitero di Cartecchio per la sepoltura e poi ancora il super poliziotto lascia i vertici del SIAP dopo dieci anni alla guida della segreteria del sindacato di polizia Egno Falconi cede il passo e poi ancora la crisi dei rubinetti la protesta per l'acqua va oltre il capoluogo domenica l'incontro dell'osservatorio a Bellante poi flash mob banchetti e iniziative per i bambini sinistra italiana contesta Lolli per la mancata apertura del tavolo tecnico alle associazioni ambientaliste del territorio area di crisi oggi il confronto tra osservatorio per lo sviluppo e sindaci Terramani poi in basso Di Giovanni è il vicepresidente della BCC di Basciano il presidente del San Nicolo nominato durante la prima riunione del consiglio d'amministrazione andiamo alle pagine dello sport pazienza e risparmio per la vera rivoluzione tanti lesuberi biancorossi ma non sarà facile ricostruire tra gli arrivi probabili ventola Bruno e Valagussa da verificare se coloro che non rientrano nei piani del terreno accetteranno l'addio oppure no la vera sfida per la società biancorossa sarà quella di chiudere definitivamente con un passato fatto di tanti contratti e poche scoperte Asta partirà per il ritiro con una squadra lontana da quella che sogna e poi in basso il rossetano Jacopo Dezzi premiato alla notte degli Oscar di Morro il centrocampista delle Perugia ma di proprietà del Napoli disputato una stagione superlativa in Umbria con Bucchi e poi ancora atletica terramani protagonisti ai campionati italiani una spedizione da incorniciare con la ciliegina sulla torta del record regionale di Angelozzi nel salto triplo ora veniamo al messaggero Abruzzo per questi ultimi minuti con le pagine dello Sport il mercato del Pescara l'Atalanta promette bastoni il Benevento si avvicina a Memushai Zeman aspetta il difensore Bergamasco ma prima la società deve fare almeno due cessioni Coda e Stendardo in partenza altro obiettivo resta Meccariello della Ternana potrebbe saltare l'arrivo del terzino interista Vaglietti e poi su altri fronti Coulibaly c'è l'accordo con l'Inter ma non è ancora l'ora dell'annuncio il trasferimento di Caprari alla Sampdoria potrebbe essere un super affare per i biancazzurri che hanno il 50% della successiva rivendita da parte dell'Inter per la Lega Pro Teramo risoluzione di contratto e giovani i primi obiettivi per Valagussa c'è il pieno gradimento di Repetto e Asta in difesa potrebbero arrivare Diallo e Ventola due giovani dal Pescara Serie D sul fronte l'Aquila cessione dell'Aquila il giorno decisivo oggi a Roma l'incontro tra il gruppo degli acquirenti e la proprietà per l'accordo pare manchino solo dettagli gli attuali soci hanno confermato la volontà di accollarsi comunque i debiti con l'erario e poi ancora per il basket gli Sharks rinnovano casa grande e ora aspettano il sì di May Capitan Fulz saluta e firma con la fortitudo per la palla a mano Città Sant'Angelo solo un miracolo può garantire l'iscrizione altre notizie dalla palla a volo Sieco ufficiale l'ingaggio di Tartaglione per il calcio a 5 Pescara dal caos arriva il pivot gigante Fernandao anche sul centro possiamo vedere le pagine su Serie B e Lega Pro Pescara via libera per Gans l'Inter sul baby Pompetti il Verona non esercita il diritto di riscatto per la punta di proprietà della Juve il play della primavera potrebbe passare al club nero-azzurro offerto il difensore Bagadour dalla Fiorentina in basso Figgici Abruzzo le iscrizioni costeranno di meno il presidente Ortolano dice i club vengono da un'annata difficile Di Santo capodelegazione di Chieti mercato di Lega Pro Teramo cambia rotta prima gli arrivi e poi le partenze la società modifica la strategia per mettere fretta ai giocatori indesiderati in attacco sarà rivoluzione noi ci fermiamo con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione del TG6 alle ore 14 alle 19 alle 23 vi ricordo anche l'appuntamento con il mondo delle due ruote questa sera alle ore 21 con velo di Jacopo Forcella e Luciano Rabottini io mi fermo qui grazie a Silvia Gentile in regia e grazie a voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata buona giornata grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri